Ciao milanisti, bentornati o benvenuti, questo è il canale di Pianeta Milan, io sono Stefano Bressi ed sarà un video intenso, sarà un video importante, sarà un video in cui tratteremo due argomenti, ma due argomenti caldissimi che so che stanno nel cuore dei tifosi milanisti, perché parleremo del futuro della panchina, perché ha parlato Zlatan Ibrahimovic, ha detto cose inaspettate, importanti, toste, abbastanza chiare anche, poi analizzeremo anche queste parole di Zlatan Ibrahimovic e parleremo di Francesco Camarda, che domenica 10 marzo compierà gli anni, compierà 16 anni, l'abbiamo visto esordire, l'abbiamo visto crescere, l'abbiamo coccolato e adesso rischiamo una beffa clamorosa che avrebbe veramente dell'incredibile e che tutti noi ci auguriamo di non dover vivere. Prima però di continuare, mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video, è importante, fatelo, non vi costa nulla, sono convinto che non ve ne pentirete nel corso del video, iscrivetevi, iscrivetevi al canale, è gratis, ci mettete un secondo, per noi è molto molto importante, ci aiuta a crescere, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella, così ricevete anche tutte le notifiche di video che pubblichiamo, non vi perdete un aggiornamento, una notizia, un approfondimento, le interviste, tantissimi contenuti di commento alle partite, ma non solo, insomma, tutta la copertura completissima di questo canale, non vi perdete neanche un contenuto, e commentate, perché voglio sapere la vostra, su tutti e due i temi di cui parliamo oggi. Ibrahimovic, le parole che ha rilasciato dagli Emirati Arabi, anzi dall'Arabia Saudita, e di Camarda. Partiamo proprio da Ibrahimovic, che era a seguire la Formula 1, è stato raggiunto dai microfoni di Sky, e ovviamente tra i tanti temi, tra le tante domande, si è palesato ovviamente la tematica principale, in questo momento riguardante il Milan, oltre a quella dei soci, di cui insomma abbiamo detto che le smentite arrivano puntuali dopo ogni voce, perché oggettivamente non ci risulta che ci siano possibilità che il Milan passi effettivamente di mano, eventualmente il Cardinale l'ha detto lui stesso, sta cercando investitori, che è un discorso un po' diverso, ma al di là di questo, diciamo dall'aspetto sportivo, la cosa più importante in questo momento, diciamo il tema più caldo, oltre a quello del Milan che può provare a vincere l'Europa League, ma ancora siamo in una fase abbastanza iniziale della competizione, una fase che vede ancora il Milan con un po' di difficoltà, lontano dalla meta finale, il tema caldo per i tifosi è quello del futuro della panchina, Stefano Pioli sempre più in bilico, Stefano Pioli non convince, ieri sinceramente devo dire la verità, ho visto un Milan brutto, un Milan, ne abbiamo parlato nel video post partita di ieri, e i limiti di questa squadra con Pioli in panchina, ieri secondo me sono emersi quasi tutti, e questa cosa un po' mi dispiace, però diciamo, al di là di questo, il tifoso del Milan si chiede se la prossima estate, o meglio, a fine di questa stagione, ci sarà un cambio in panchina, non ci sarà un cambio in panchina, chi eventualmente prenderà il posto di Pioli. Ne aveva parlato già Ibrahimovic in maniera informale, aveva rilasciato una dichiarazione, aveva detto che insomma il Milan era contento di Stefano Pioli, aveva confermato poi Furlani, dicendo che le voci lo infastidiscono dopo che l'aveva detto Stefano Pioli, o meglio, non lo infastidiscono, lo annoiano, così come aveva detto Stefano Pioli poco prima, e oggi Ibrahimovic però a domanda diretta ha risposto in maniera molto diretta, molto chiara, molto precisa, gli è stato chiesto cosa deve fare Pioli per rimanere al Milan anche la prossima stagione, e Zlatan ha sorriso e poi ha detto, deve continuare a fare quello che sta facendo, siamo contenti di lui, il suo lavoro è un buon lavoro. Ora le dichiarazioni, lo ripeto, sono chiare, sono nette e sono molto precise anche. Bisogna capire se sono dichiarazioni di circostanza, perché siamo a stagione in corso, non può andare pubblicamente a dire Pioli non può rimanere, così come non può dire deve vincere l'Europa League, perché se poi non vince l'Europa League l'hai esonerato praticamente. Oggettivamente di risposte alternative ce n'erano poche, Ibrahimovic è stato molto bravo, molto intelligente a dare l'unica risposta corretta. Poi può essere che sia anche la risposta vera, perché alla fine Pioli è secondo in classifica, si sta giocando l'Europa League, continua a vincere, le prestazioni non sono brillanti, ma continua a vincere, quindi queste sono le parole di Ibrahimovic. Poi ci si può ricamare intorno, si può provare a approfondirle, si può provare a capire di più, leggere tra le righe, però le dichiarazioni sono deve continuare a fare quello che sta facendo. Allo stesso modo però, come ho detto, se vince l'Europa League tu dici che deve vincere l'Europa League e poi non la vince l'hai esonerato, se lui continua a fare quello che sta facendo e lo esoneri, è un po' una contraddizione. Certo è che non poteva nemmeno dire magari vince l'Europa League, poi la vince e lo esoneri. Quindi insomma era una domanda complicata a cui Ibrahimovic secondo me ha risposto in maniera intelligente, poi bisognerà capire qual è la situazione. Io vi ripeto nuovamente quello che risulta a noi è che il futuro di Pioli più o meno in realtà sia già deciso, non è vero che verrà valutato a fine stagione, ovviamente ufficialmente la posizione è questa, però probabilmente Pioli a fine stagione andrà via per tutta una serie di motivi. Io quello che vi ripeto nuovamente e non perdo mai l'occasione di dirlo, è che le critiche a Pioli sono giuste, l'accanimento è sbagliato. Quindi questo è quello che penso io e spero che mi nemminca l'Europa League, questo lo ripeterò sempre, anche perché così magari sarà lo stesso Pioli ad andare via o comunque l'addio sarà un addio da eroe, come giustamente si meriterebbe. Però questa è la situazione, il sostituto non risulta Conte, la prima scelta è Tiago Motta. Ma passiamo al secondo argomento, Camarda all'Inter. Parliamoci chiaro, questa cosa spaventa tutti. Camarda all'Inter è in questo momento una suggestione, un'ipotesi, un'idea, una notizia non solo, o meglio sì, è una notizia, però una notizia ancora diciamo in fase iniziale, perché cioè è un avviso, una notizia che dice guardate che l'Inter è su Camarda. L'ha detto il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Camarda domenica compirà 16 anni, domenica quindi tra due giorni, oggi questo video esce 8 marzo, oggi è l'8 marzo, auguri tra l'altro a tutte le donne, oggi è venerdì, domenica Camarda compirà 16 anni, 16 anni vuol dire che può firmare il primo contratto da professionista, per un massimo di tre anni perché non è ancora maggiorenne, e il Milan sta lavorando a questo rinnovo di contratto già da un po' di tempo in realtà, vi avevamo raccontato tra l'altro di un incontro a casa Milan un po' di mesi fa con il suo agente, in cui ancora tra l'altro c'era Paolo Maldini, che gli aveva detto che avrebbe lavorato in primavera a partire da questa stagione, quindi era prima dell'inizio, era verso la fine della scorsa stagione, nel giugno se non sbaglio subito, forse maggio, maggio perché era prima che Maldini ovviamente andasse via, e quindi era maggio dell'anno scorso e Maldini aveva avvisato Camarda che avrebbe iniziato a lavorare con la primavera a partire da questa stagione, quest'anno Camarda in primavera ha avuto dei numeri strepitosi, li leggo, vado a leggerli, 12 gol in 29 partite, a 15 anni sono oggettivamente dei numeri eccezionali, l'abbiamo visto essordire con la maglia del Milan in Serie A, con tanto di cori della Curva Sud, per quello che è un talento generazionale, perché poi ho sentito tantissimi guru della televisione dire che Camarda non ha la qualità, Camarda è un pippo in zaghi, non c'entra niente con Camarda, Camarda è un giocatore fenomenale, perché ha una qualità nei piedi e di testa, fuori dalla media, oltre alla media, fuori dal comune, ha una qualità impressionante, sa far tutto col pallone, sa segnare, sa gestirlo, sa servire i compagni, sa dribblare, sa far tutto, segna anche di testa, poi è vero anche che ha il killer instinct in area di rigore, ed è un grande bomber, ma non è solo quello, quindi insomma abbiamo visto crescere questo giocatore, questo giovanissimo giocatore, nelle giovanili delle categorie più piccole, segnava a valanga, ha fatto più di 500 gol, quasi 1000, una roba impressionante, adesso fa 16 anni, è andato addirittura in Curva Sud a vedere una partita, insomma per molti il rinnovo doveva essere una cosa scontata, così scontata non lo è, poi, il Milan probabilmente non è così preoccupato, piace a mezza Europa, parliamoci chiaro, e non è stato certamente l'esordio a far attirare l'attenzione su di lui, piace al City, piace al Bayern, piace a tutti, piace a tutti, Camarda e piace anche all'Inter, che si è mossa concretamente per provare a capire se ci sono margini di trattativa, ora, Camarda sembra comunque intenzionato a rimanere al Milan, il Milan vuole trattenerlo, vuole fare un contratto triennale, ripeto, è il massimo, non si può fare di più, ma a partire dal primo di luglio, in modo tale che abbia scadenza al 30 giugno 2027, sarà una trattativa che probabilmente dovrà arrivare a una conclusione proprio entro quest'estate, entro il primo di luglio, io credo che Camarda alla fine firmi con il Milan, lui da domenica in realtà è libero di firmare con chi vuole, Camarda domenica compie 16 anni e può firmare con chi vuole, però lo ripeto, il Milan è ottimista, sta lavorando, sta facendo di tutto per convincerlo, e Camarda, tutto sommato, vuole rimanere al Milan, però attenzione, perché l'Inter è arrivata sul giocatore, ci sta provando e sarebbe una beffa clamorosa che nessuno di noi vuole vivere, soprattutto considerando i precedenti, l'ultimo precedente quello di Celanoglu, perdere Camarda a zero facendoselo soffiare in questo modo sarebbe deleterio, soprattutto perché è un giocatore che tra qualche anno potrà avere un valore impressionante e quindi perderlo a zero sarebbe una doppia sconfitta. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, lasciate un mi piace a questo video e mi raccomando è importante fatelo e non vi pentirete iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti sperando che vi sia piaciuto questo video ma trovate tantissimi contenuti su questo canale attivate la campanella per non perdervene neanche uno seguiteci su pianetamilan.it e su tutti i nostri profili un saluto da parte di Stefano Presti e appuntamento al prossimo video grazie a tutti i nostri spettatori